Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi parleremo di logica e vedremo alla fine della lezione anche come costruire le tabelle di verità. Allora, cominciamo col definire che cos'è una proposizione logica. Allora, una proposizione logica o anche detta enunciato è una frase sulla quale possiamo dire se è vera o falsa, cioè possiamo attribuirgli un valore di verità, o vero, che si indica con V maiuscolo, oppure falso, che si indica con F maiuscolo. Allora, cominciamo con le proposizioni semplici. Quindi, proposizioni semplici sono quelle frasi, in senso compiuto, più brevi e sono composte da un soggetto o da un predicato. Che cos'è il soggetto? Lo sapete già, ma lo ripeto, il soggetto è ciò di cui parla il predicato. Il predicato, invece, è la parte che dice qualcosa del soggetto. Ci sono anche proposizioni con più predicati, formate da più proposizioni semplici, legate tra loro, da dei connettivi come E, O, NON, O, puntini O, SE, ALLORA, SE e SOLO SE. Due proposizioni legate da un connettivo danno come risultato una nuova proposizione. Allora, vediamo chi sono i connettivi logici. Sono la congiunzione E, oppure O, NON, O, O, SE, ALLORA, SE e SOLO SE. Questi connettivi logici ci consentono di costruire proposizioni con più predicati a partire da proposizioni più semplici. Allora, quindi, usando delle proposizioni semplici e dei connettivi, otteniamo le cosiddette proposizioni logiche composte. Quando possiamo dire che una proposizione logica è composta? È composta quando è formata da più proposizioni elementari, legate da connettivi. Una proposizione composta si dice anche molecolare. Quindi, lo ripetiamo, i connettivi logici consentono di formare proposizioni composte, dette anche espressioni logiche. Facciamo un esempio, o degli esempi. Consideriamo due proposizioni elementari. A, vado alla stazione. B, accompagno il mio amico in palestra. Con queste due proposizioni semplici possiamo costruire altre proposizioni composte. Per esempio, vado alla stazione e accompagno il mio amico in palestra. Oppure, o vado alla stazione o accompagno il mio amico in palestra. Non vado alla stazione e accompagno il mio amico in palestra. Se vado alla stazione, allora accompagno il mio amico in palestra. Vado alla stazione se e solo se accompagno il mio amico in palestra. Quindi ognuna di queste proposizioni risulta dalla composizione delle due proposizioni elementari che abbiamo considerato, cioè va dalla frazione e accompagna l'unica in palestra, ma ovviamente ha un significato diverso dalle altre. Allora, vediamo un po' di analizzare invece che cos'è un'espressione logica. Allora, i connettivi logici ci consentono di fare delle operazioni tra le proposizioni logiche elementari, così come le quattro operazioni ci permettono di operare con i numeri. Come per le quattro operazioni, per i connettivi logici, si usano delle regole di precedenza e per scrivere le espressioni logiche si possono utilizzare delle parentesi, come per i numeri, in modo identico. Ora, per stabilire il valore di verità di una proposizione composta, si usano le tavole di verità. Cos'è la tavola di verità? La tavola di verità è una tabella dove riportiamo le proposizioni elementari, le proposizioni composte e poi i relativi valori di verità possibili. Allora, analizziamo una a una le tabelle di verità di tutti i connettivi. La negazione. Allora, cominciamo con la negazione. La negazione è di una proposizione A, vedete? L'ho segnata qua, là. E la proposizione non ha o ha negato, vedete? A con questo trattino sopra. Che risulta vera se A è falsa e oppure falsa se A è vera. Quindi, mettiamo nella prima colonna il valore di verità della proposizione A, quindi vero e falso, ha negato sarà. Se A è vero, ha negato sarà falso. Se A è falso, ha negato sarà vero. Il cognitivo non ha la precedenza rispetto a tutti gli altri cognitivi. Questo è importante ricordare. Vediamo la congiunzione E. La congiunzione di due proposizioni A e B è la proposizione A e B. Quando è che è vera questa proposizione? A e B è vera solo quando le due proposizioni sono entrambe vere. Nell'altro caso è falsa. Vedete la tabella? A vero, B vero e A e B è vero. Quindi, qua, le prime due colonne, quando ho due proposizioni logiche, diciamo che abbiamo le varie possibilità vero, 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 falso, 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 falso. Allora, andiamo a vedere la disgiunzione inclusiva O. Allora, la disgiunzione inclusiva O di due proposizioni A e B è la proposizione appunto A o B. Vedete, il simboletto è una V. V che appunto sta a indicare il VEL in latino oppure, o in inglese OR. Quindi, le prime due colonne sono sempre identiche, con le varie combinazioni, vero, vero, falso, 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 falso. E noi abbiamo che A VEL B o AO B o AO B è vera quando almeno una delle due proposizioni è vera. Oppure diremmo che è falsa quando sono entrambe false. In tutti gli altri, quindi in tutti gli altri casi, è vera appunto. La disgiunzione esclusiva O, O. Allora, la disgiunzione esclusiva è due proposizioni A e B e la proposizione AOA o B. E se è vera, se e solo se, una. La proposizione è vera e l'altra è falsa. Quindi avremo che quando A e B sono vere sarà falsa. Quando, vedete, A vero, B falso, A e sol B sarà vero. Quando A è falso, B è vero, sarà vera. E quando sono entrambe false, sarà falsa. L'implicazione materiale. Allora, l'implicazione materiale di due proposizioni A e B è la proposizione SE A, ALLORA B. che risulta falsa se solo se A è vera e B è falsa. Vedete, l'unico caso è questo. L'ultima tabella è questa, la doppia implicazione. La doppia implicazione di due proposizioni A e B è una proposizione vera se A e B sono entrambe vere o entrambe false. In altri due casi è falsa. Adesso, ritorniamo un po' alle espressioni logiche. Quindi, noi, componendo più proposizioni con i connettivi logici esaminati, otteniamo delle espressioni logiche. Allora, vediamo quali sono le precedenze da rispettare sulle espressioni logiche con più connettivi. Allora, se non ci sono parentesi, si deve seguire questo, prima la negazione, poi la congiunzione, poi la disgiunzione inclusiva, poi l'implicazione materiale e poi la doppia implicazione. Se ci sono parentesi, invece, si usano le stesse convenzioni che usiamo nelle espressioni numeriche. Cioè, prima si fanno le operazioni dentro le parentistonde, poi dentro le quadre, poi dentro le grazie. Se una negazione, cioè, si riferisce ad un'intera parentesi, bisogna prima ottenere le parole di verità dentro la parentesi e poi negare questo valore. Facciamo un esempio. Consideriamo l'espressione A e B negato. Per costruire la tavola di verità di questa espressione, facciamo in questo modo. Prima compiliamo le colonne relative ad A e B, poi compiliamo la colonna relativa a B negato e alla fine compiliamo la colonna relativa alla confunzione di A e di B negato. vediamo, vediamo, costruendo effettivamente la tabella. Prima compiliamo le colonne relative ad A e di B, vedete, vero, vero, falso, falso, vero, falso, falso, con tutte le combinazioni. Poi compiliamo la colonna di B negato, non B. Quindi, consideriamo B, B qua è vero, non B sarà falso, B è falso, non B sarà vero, B è vero, non B è falso, B è falso, non B o B negato è vero. Adesso ci rimane da compilare la terza colonna, A e B negato. Quindi, consideriamo la prima colonna e la terza colonna. Noi sappiamo che il connettivo E, qui la congiunzione, è vera quando entrambe le proposizioni A e B negato sono vere. La cerchiamo, vedete, A qua è vero e B negato è vero, l'unica riga vera sarà questa. Tutto il resto sarà falso. Quindi, questo è falso, questo è falso e questo è falso. Ora, quando è che due espressioni logiche sono equivalenti? Due espressioni logiche sono equivalenti, oppure due espressioni logiche nelle stesse variabili sono equivalenti, se hanno uguale la relativa colonna della tavola di verità. Per esprimere l'equivalenza tra due espressioni logiche si usa l'uguale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima lezione. Arrivederci.